E danza carioca, e samba o altro che sia, poco importa, perché quel che conta è vederlo danzare. Sguscia fonambolicamente via leggero fra gli avversari, come uno sciatore levigato, ed estrae dal cilindro sette da posizioni impossibili che rivedono le leggi di Newton e imbarazzano i riflessi incolpevoli degli estremi altrui. E Claudio Ose Barbosa, detto Cacao, l'asso brasiliano classe 1989, che da due anni in forza al futsal bitonto 2019 sta trascinando la squadra nero-verde a suon di giocate di rara bellezza. Giocate che hanno attirato la curiosità prima e la meraviglia poi di tutto il pubblico nostrano, che di sabato in sabato riempie il palaborsellino per sostenere questa realtà di futsal maschile della città. Il genio nella testa e la mangia nei piedi dunque per il brasiliano, che fino a questo momento ha raggiunto quota 23 gol in stagione. Ultime della serie, le reti rifilate all'Itra in occasione dei quarti di finale delle finaliti di Coppa Puglia andate in scena a Cisterrino dal 2 al 6 gennaio scorso. Un appuntamento con la storia, in cui i ragazzi di mister Pietro di Bari non hanno sfigurato affatto, anzi, ancora una volta, hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo contro un avversario quotatissimo come i brindisini, uscendo dalla competizione fra gli applausi delle dette lavori. Ma Claudio Barbosa non è solo patrimonio di bellezza sudamericana da ammirare in campo. Da ottobre, infatti, è il mentore calcistico della formazione Juniors, che sotto la sua guida tecnica sta ben figurando nel proprio campionato, guadagnandosi la seconda piazza in classifica con vista sul primato. Bomber, uomo assist, giocogliere, padre e marito. Tutti in piedi dunque per l'asso brasiliano, che di gara in gara, con le sue giocate, assieme al collettivo del gruppo, sta contribuendo a mantenere vivo un sogno che resta taciuto, ma su che ora iniziano a crederci davvero un po' tutti?